edizione straordinaria amici segnatevi questa data venerdì 24 di gennaio con l'evidenziatore perché è il giorno è arrivata finalmente dopo una lunga estenuante trattativa l'accordo totale tra inter e tottenham per christian ericsson poco fa in sede l'intermediario frank trimboli con martin schotz a tessere le fila a londra insieme alla dirigenza al ceo del tottenham levy ha presentato l'ultima offerta quella decisiva dell'inter che con 18 milioni più qualche bonus si porterà a casa christian ericsson un top player assoluto uno dei primi tre centrocampisti al mondo alla fine ha scelto il progetto nerazzurro con lui un accordo per quattro anni a 10 milioni a stagione bonus compresi diventa il giocatore più pagato della rosa nerazzurra e adesso si aspetta solo il suo arrivo a milano come vi dicevo questa mattina e vi ho ridetto anche nel notiziario su italia 1 alle ore 13 as for mediaset lunedì è il giorno dell'annunci ufficiale del suo arrivo a milano poi a seguire visite mediche firme foto con sciarpe o comunque comunicati come sappiamo bene tutta la trafila però la notizia più importante che ripetiamo è che c'è un accordo totale tra inter e tottenham ericsson sarà un giocatore dell'inter e quindi risposta a tanti di voi che non ci credevano che continuano a dire modric bis a criticare l'operato della dirigenza dell'inter di marotta ausilio in questo mercato consiglio un bel silenzio e qualche penitenza perché alla fine è un colpo che non si vedeva dai tempi di moratti dai tempi del triplete per la concorrenza che c'era sul giocatore chiaramente anche lukaku è stato un grande colpo l'acquisto più pagato nella storia dell'inter però vista la situazione il fatto che il giocatore era in scadenza che poteva accordarsi con chiunque è stato veramente un'operazione da applausi cercare insomma vincere la concorrenza di real madrid l'ultimo il barcellona che aveva provato un inserimento a scardinare l'accordo che c'era già con l'inter poi il pari san germain di leonardo la stessa juventus che voleva provare a portarselo a casa parametro zero a in estate però con un doppio passo capite che insomma sarebbe stato difficile arrivare a arturo vidal l'inter ha rotto gli indugi e ha subito trovato un accordo col giocatore poi è andata avanti questa lunga trattativa con il tottenham che non mollava di un centimetro fondamentale in questo senso anche la rinuncia del giocatore ad alcune spettanze e anche a parte della ricca commissione prevista in ogni caso per lui e i suoi agenti per questa operazione ericsson sceglie l'inter e adesso anche conte potrà avere quella qualità che mancava un po in rosa un cecchino sui calci piazzati un uomo dell'ultimo passaggio un costruttore un trequartista che può giocare anche come mezzala ma può potrà cambiare anche schema antonio conte pensare a un 3 4 1 2 con ericsson alle spalle di lautaro e di lukaku oppure giocare anche alcune partite con magari lui in appoggio a una punta sola insomma tante possibilità e soprattutto un rinforzo dal del valore mondiale come ricorda qualcuno l'acquisto di wesley snyder che poi fu una delle chiavi insieme a milito e to tiago motta insomma a tutti quei giocatori di quel incredibile triplete nella stagione 2010 2011 un inter che adesso deve cercare con un ericsson in più la sua rincorsa alla juventus lontana 4 punti sperando che possa essere un turno di campionato favorevole ai colori nerazzurri da non sottovalutare la gara di domenica con il cagliari ericsson che però come vi ho detto dovrebbe arrivare lunedì e quindi nessuna presentazione a san siro passerelle distrazioni dalla gara con il cagliari così importante e poi inizierà l'era e l'era ericsson e quindi complimenti alla società complimenti a steven zang che è rimasto apposta in italia non è tornato a casa per festeggiare il capodanno cinese per chiudere questa trattativa così importante un top player assoluto che torna a vestire colori nerazzurri per riportare l'inter in vetta in italia e nel mondo una operazione veramente da incorniciare per come è stata difficile dura come è stato complicato superare la concorrenza di tutte le rivali agguerritissime che offrivano anche stipendi e ingaggi da capogiro per l'estate quando il giocatore sarebbe stato svincolato dal tottenham ci si è messo di mezzo anche murinio che prima insomma con un po al dente avvelenato per il fatto che l'inter abbia scelto conte non lui per questa ripartenza prima ha cercato di convincere ericsson a rinnovare missione fallita poi ha messo un po sempre i bastoni tra le ruote continuando a convocare il giocatore a farlo giocare nonostante questa trattativa ormai in fase conclusiva aspettando ericsson però ci sono anche altre novità importanti perché si muove e tanto anche in uscita ufficiale con già visite mediche e foto prima intervista da di lazaro a newcastle due milioni per il presito del giocatore oneroso e poi diritto di riscatto per 24 quindi l'inter nel caso venisse riscattato farebbe anche un po di plus valenza che non fa mai male ma soprattutto la notizia più importante che matteo politano dopo le iniziali resistenze dopo aver tentato insomma di aspettare ancora la roma ha detto sì al napoli quindi accordo tra il giocatore e il napoli con le due società che adesso stanno perfezionando il loro accordo con il napoli che darà all'inter 5 milioni prestito oneroso e un riscatto fissato a 20 milioni adesso per il momento l'operazione è slegata come vi avevo detto anticipando un po tutti dalla l'affare iorente si dice che gattuso vorrebbe trattenere lo spagnolo perché mertens ancora infortunato e anche l'inter vorrebbe comunque mantenere fede alla promessa l'accordo già raggiunto con girù quindi in questo preciso momento sembrerebbe escluso dalla trattativa fernando iorente aspettiamo novità in questo senso ufficialità lunedì sarà anche la giornata di gabigol la cessione al flamengo per 20 milioni più il 20 per cento su una futura rivendita e già una plus valenza di quasi 10 milioni per quello che sembrava un bidone totale della storia nerazzurra l'inter riesce anche a guadagnarci quindi altra comunque operazione positiva con il segno più in casa nerazzurra cosa manca adesso da chiarire la situazione vessino che dopo gli ultimi screzzi con conte vuole assolutamente la cessione c'è stata questa offerta respinta di prestito del manchester united escluso lo scambio con allen che il napoli valuta più di 50 milioni e vedremo se ritornerà insomma se prima si troverà un acquirente per vessino e quale soluzione verrà trovata all'inter che uscendo anche vessino andrà a comprare anche un altro centrocampista con il manchester united si è parlato di matico si potrebbe anticipare l'arrivo di chong che però è più un esterno offensivo insomma tante possibilità adesso però la cosa importante è concentrarsi sull'arrivo del top player sull'arrivo di christian ericsson il tottenham ha chiesto ancora del tempo prima di ufficializzare l'affare dopo che ricordiamo è stato trovato questo accordo totale per il passaggio in nerazzurro di ericsson serve anche che trovi che annunci un l'arrivo di un altro centrocampista il tottenham di murigno e poi ufficializzerà il suo passaggio in nerazzurro con lo sbarco lunedì del giocatore a milano per visite mediche e quant'altro un inter quindi regina di questo mercato tanti saluti a tutti i criticoni a chi mi aveva anche attaccato dicendo che ericsson non sarebbe mai arrivato in questo mercato di gennaio che escludeva qualsiasi tipo di possibilità saluti a tutti e alla fine adesso però bisogna concentrarsi sulla ripartenza in campionato quattro pareggi nelle ultime sei partite bisogna tornare alla vittoria cercare di mettersi lì in scia alla juventus mettere pressione e con un ericsson in più con anche young con moses ricordiamo rinforzi di esperienza per gestire anche meglio i finali di partita l'inter può ha sicuramente delle armi in più un mercato importante ma ci saranno ancora novità è l'ora sport media siete sempre sintonizzati il nostro sito la nostra app e poi naturalmente qui al canale iscrivetevi se non l'avete ancora fatto cerchiamo di continuare a crescere con ericsson mi raccomando sarà tutto più semplice ma ripetiamo la notizia del giorno venerdì 24 gennaio accordo totale tra inter e tottenham ericsson lunedì diventerà un giocatore nerazzurro saluti grazie a tutti